Buongiorno, sono Giovanni Gulino, referente per malnate del Movimento 5 Stelle. Il nostro candidato è eletto alle regionali come Movimento 5 Stelle che è Paola Macchi e che, così come avete pensato voi, è disposta a subire questa intervista che sicuramente darà dei risvolti di pensiero molto interessanti. Passo il microfono a chi farà le domande. Grazie, come abbiamo detto siamo qui a malnate, oggi il sole ci aiuta, Paola Macchi, architetto. Io apparentemente, come si vede dal volto e dal viso, una donna molto comune perché, come si vede, non ha niente di speciale. Invece no, sei stata scelta per rappresentare il Movimento 5 Stelle alla Regione Lombardia. Come mai? Beh, direi che questa è proprio la cosa straordinaria. Sono una persona comune e questo trovo che sia meraviglioso perché sono stata scelta fra altre persone comuni per andare a fare da portavoce, questo è importantissimo, perché io sarò una portavoce del nostro pensiero, del pensiero di tutti i cittadini stufi. Io sono una cittadina stufa. Ho cominciato, fantastico, siamo in tanti cittadini stufi, quindi farò solo la portavoce di tutti questi cittadini stufi di come stanno andando le cose. Cittadini comuni, come me. Abbiamo gli applausi registrati? No, dal vivo. Bella parola stufa. Bella parola stufa perché vuol dire ma non stufi dalla politica, penso. Stufi di alcune azioni che comunque non ci rappresentano. Per quello, che cosa vuole proporre adesso, supponiamo che tu domani entri in regione Lombardia dopo trovare il tuo posto, che cosa ci propone Movimento 5 Stelle o Paola Macchi per sconfiggere questa politica che ha un po' ci ha stufato? Allora, prima di tutto scordiamoci il Paola Macchi. Io sono un portavoce, quindi porterò quello che mi verrà detto di portare dal Movimento 5 Stelle e dai cittadini. I cittadini abbiamo chiaramente un programma, al di là di quello che cercano, hanno cercato di dire durante tutta la campagna elettorale. Un programma ben fatto, se volete vederlo sul nostro blog c'è ed è visibile. Che cosa andiamo a fare? La prima cosa che vogliamo fare, perché è la prima cosa di cui sentiamo tutti la necessità, è andare a cacciare il naso in quello che è stato fatto. I bilanci, come sono stati spesi i soldi, quello che fa chiunque faccia economia domestica, quello che facciamo tutti, cioè quanti soldi sono entrati, dove sono finiti questi soldi, perché siamo conciati così male. Quindi la prima cosa che faremo è controllare che cosa è stata fatta. La seconda cosa sicuramente che verrà fatta è cercare di dare trasparenza a quello che viene fatto. Questo secondo me è fondamentale, secondo tutti noi è fondamentale. Cioè vogliamo sapere bene, esattamente e serenamente che cosa viene fatto. Quindi un bilancio partecipato, sapere magari tre mesi prima quali sono le proposte fatte, in modo che anche i cittadini possano dire la loro, perché non dimentichiamoci che la politica, i politici dovrebbero proprio fare questo, portare quello che è il pensiero dei cittadini. I politici sono i rappresentanti dei cittadini, dovrebbero essere sempre il loro portavoce, cosa che non è stata fatta. Se i politici devessero fatto bene il loro mestiere, a quest'ora io non sarei qua. Bene. Questi giorni ci è stata questa polemica, perché dopo l'elezione subito si è detto che in Italia sono stati scelti due clown. Tu non lo sai Paola, ma io mi diverto e diverto i bambini facendo il clown. Io non mi sono offesso di questa osservazione, nel senso che ho detto o magari clown al Parlamento, anche se il clown devono stare, secondo me, giustamente a divertire le persone. Ma visto che tu sei un architetto, forse volevano dire che questo movimento 5 Stelle ha costruito questa casa, dove voi siete dentro, a partire dal tetto e non hanno pensato a creare la classe dirigente. Come dire, quel malutilizzo è la parola improvvisati. Tu ti senti, dopo questa vittoria, una improvvisata della politica o ti senti qualcuna che comunque, al di là di essere stufa, ha voglia di comunque provare a come fare la politica, la buona politica? Togliersi la maschera del clown o magari mettersela soltanto per carnevale? Allora, adesso ti dirò una cosa che ti stupirà. Sono un clown anch'io, nel senso che io sono un clown di corsia del Dottor Sorriso e quindi lo faccio volentieri e chi fa il clown sa che cos'è un clown. Un clown interpreta, noi clown di corsia, per esempio, molte volte interpretiamo anche il dolore e la rabbia dei bambini che non possono farlo in un altro modo e quindi diventiamo veramente il loro portavoce della rabbia. Il fatto che dicano sempre che Grillo è un comico è evidente perché lo fanno. Cercano di destabilizzare e di rovinare la sua immagine. In realtà Grillo ha sempre detto cose molto ma molto serie, molto ma molto più serie di tutti gli altri politici che si sono regolarmente avverate. Noi pensiamo alla faccenda della Parmalat e quindi secondo me di comico quando fa politica non ha niente, nel senso che anzi è molto mirato, è molto concentrato su quello che deve dire e molto informato anche. E noi, i portavoce, quelli che sono stati eletti, ognuno di noi ha la propria competenza. Che cosa stiamo facendo? Allora, prima di tutto noi avremo una forza incredibile perché non siamo soli ma dietro abbiamo tantissimi cittadini esperti di qualsiasi tipo. Abbiamo avvocati, esperti ambientali, medici. Cioè abbiamo persone che ci diranno e che ci aiuteranno a fare delle proposte e a esaminare bene le proposte che vengono fatte con cognizione di causa. Per quanto riguarda noi che adesso siamo stati eletti, per esempio io in questi giorni ci stiamo studiando una quantità di leggi per arrivare assolutamente informati. Noi ci sentiamo una grande responsabilità perché sentiamo che tante persone ci hanno dato la loro fiducia e quindi proprio la responsabilità che sentiamo non sentendoci noi niente ma essendo noi cittadini comuni abbiamo la responsabilità di portare veramente il pensiero degli altri cittadini e di portarlo molto bene. Quindi veramente, io so anche, conosco le persone che andranno a Roma sono tutti veramente in questo momento concentratissimi sullo studio, su studiare il più possibile quello che non è nelle nostre competenze. Siccome nessuno è un tuttologo, che ne vogliano dire i politici logicamente abbiamo dietro le spalle un sacco di altri cittadini che fanno parte del movimento, anzi invito chiunque voglia dire la sua e voglia portare la propria esperienza e la propria competenza a entrare nel movimento e a farlo perché è proprio dei cittadini che abbiamo bisogno. Allora, visto che stavi affrontando forse il tema lontanamente dell'Europa, visto che l'Europa ci guarda vogliamo uscire dell'Europa, vogliamo restare in Europa per far vedere agli altri che ci guardano sempre con poco rispetto per dire no, noi siamo capaci di lavorare siamo capaci di portare a termine un accordo che abbiamo con i nostri elettori per quello rimanere in Europa, al di là dei sacrifici che bisogna fare per rimanere in Europa, per lavorare bene questo c'è o c'è anche un'altra idea sull'Europa? No, l'idea di far vedere che comunque noi italiani io credo che ultimamente ci manchi un po' un orgoglio di nazione nel senso che all'estero ridono, ridono delle battute di tanti nostri politici e quindi ci pigliano un attimino in giro dobbiamo fargli vedere chi siamo noi italiani siamo un popolo meraviglioso esportiamo tantissimi, purtroppo, tantissimi scienziati di elementi eccellenti siamo creativi abbiamo veramente tante cose da dimostrare al mondo noi vorremmo proporre per esempio un referendum ai cittadini perché decidano veramente i cittadini sul fatto di restare o meno nell'euro l'economia logicamente è una materia complicata quindi andrà ben guardata per tante cose noi ci riserviamo una volta entrati stiamo entrando adesso quindi alcune volte mi domandano poi in regione adesso avete intenzione un attimo cioè secondo me è veramente demagogia dire allora promettiamo questo l'altro noi siamo per i fatti lo dimostriamo sempre la concretezza secondo noi sta nei fatti che si dimostrano di fare quindi entriamo cominciamo a fare dei passi dimostriamo dei fatti e poi chiaramente ci meriteremo in rapporto con tutto il resto dell'Europa la cosa che dico io noi italiani non abbiamo niente da invidiare a nessun altro paese europeo ok allora questo Movimento 5 Stelle possiamo dire che ha una leadership ha un gruppo di persone dei cittadini visto che questo anno non so se lo sai però sarà l'anno proprio dei cittadini europei vorrei chiederti un tuo parere personale di questi due leader come tu dici vengono sempre contestati cercano di farle capire che loro sono di un modo sono uno o l'altro ma loro sempre non rispondono poco nel senso danno le loro interviste così cosa ne pensi tu? cioè Paola Macchi di Grillo che cosa ne pensi tu di Casaleggio nel senso da uno a dieci che cosa ne pensi? io credo che magari tu dirai dieci perché è un punteggio ma un punteggio sincero nel senso magari che cosa ti aspetti di questi due leader che ti hanno ispirato a partecipare politicamente? allora io devo dire una cosa perché è una cosa che mi chiedono in tante persone io non ho mai visto Grillo prima giusto per perché tanti si chiedono ah c'è un'ingerenza dall'alto io la prima volta che ho visto Grillo è stato il 19 di febbraio in piazza Duomo perché siamo andati tutti ed eravamo sul palco con lui e l'ho visto per la prima volta lì non ho mai avuto non mi hanno mai tele... Casaleggio non so nemmeno che faccia abbia cioè so che faccia perché l'ho visto però l'ho visto come l'hanno visto l'ha visto chiunque ma mai sentito per telefono mai visto noi abbiamo deciso tutto dal basso Giovanni lo sa benissimo perché ha seguito dall'inizio quindi veramente per chiunque abbia dubbi su come sono state fatte le scelte le scelte sono state fatte autonomamente e in modo assolutamente totalmente democratico dal basso completamente quindi io di Grillo che cosa penso è un megafano straordinario è una persona che ha una capacità di comunicazione straordinaria unita a un'intelligenza secondo me notevole nel senso che è una persona che c'è si vede io ho visto una cosa di lui quando ero sul palco che è arrivato Dario Fo noi eravamo tutti tutti un pochi seduti chi ha visto quella serata in streaming noi eravamo tutti seduti sul palco a un certo punto c'è stato del fermento dietro ci siamo alzati e abbiamo visto questo gran vecchio Dario Fo una persona molto alta anziano perché molto bello con uno sguardo fiero e quando Grillo intanto stava parlando non se ne è accorto subito quando gli hanno detto c'è Dario Fo lui si è girato e gli si sono riempiti gli occhi di lacrime e questa è stata una cosa veramente bellissima perché lì non mentiva non lo vedeva nessuna televisione non lo stava inquadrando nessuno io ero casualmente lì di fianco quindi l'ho guardato in faccia e veramente si vedeva l'emozione di avere vicino a una persona che lo appoggiava in questa cosa quando poi Dario Fo ha detto quella cosa meravigliosa non vedevo la piazza Duomo così da quando era finita la seconda guerra mondiale veramente eravamo tutti emozionatissimi ma lui era emozionatissimo e lì veramente posso dire di persona da donna anche quindi distinto lo sente veramente non è finto Dario Fo è un premio Nobel sì ok per quello è un premio Nobel alla cultura io che faccio cultura mi sono chiesto ho letto il vostro programma di cultura se parla poco magari se parla poco se scegli di parlare poco perché si sta parlando di altro non voglio giudicarvi prima ma qui in questo territorio sulla cultura c'è tanto da fare torniamo qui a Malnate tu sai quanti voti hai presso a Malnate te lo dico io hai presso circa 1200 voti se non sbaglio sono tanti per una prima candidatura è il sogno di un candidato diciamolo per quello cosa potresti fare per la cultura in generale regione Lombardia per la cultura egoisticamente per questi elettori che ti hanno votato qua a Malnate cosa ne pensi della cultura? la cultura è una delle nostre ricchezze perché logicamente poi in Italia oltretutto abbiamo veramente una tradizione culturale incredibile ed è giustissimo io trovo che sia giustissimo lavorare perché ci sia una cultura la intendo in modo un pochino più ampio secondo me la cultura va portata ai cittadini anche alla base molte volte si tende a fare una cultura d'elite quindi quando si pensa alla cultura si pensa il teatro la letteratura la pittura i musei benissimo ci devono essere perché questi sono quelli che mantengono le tracce veramente di grande personalità nel tempo però secondo me è importante che tutti siano coinvolti in un discorso culturale perché le persone possano occuparsi anche di cultura devono avere l'amichetta quotidiana cioè sembra un discorso banale ma signori cioè dobbiamo riuscire a portare avanti parallelamente questi due discorsi far capire alle persone che più cultura c'è più ci sarà la possibilità di scegliere meglio in futuro anche da un punto di vista politico chi rappresentarci che ci sarà la possibilità di avere più cura per i cittadini ma va portata avanti parallelamente un altro discorso che è molto più pragmatico che è quello di trovare la soluzione per lavoro per le piccole imprese perché purtroppo se appunto le persone non sono serene da un punto di vista economico la cultura ahimè tende ad andare in secondo piano e non è giusto le due cose secondo me sono strettamente collegate la cultura e il benessere quando c'è benessere allora a quel punto veramente le persone hanno la voglia e l'amore per la cultura allora mi verrebbe da chiederti i giovani anche questo è stata una idea il Movimento 5 Stelle ha preso botto di giovani poi ci siamo svegliati quel giorno meraviglioso anche per voi che non soltanto i giovani hanno votato il Movimento 5 Stelle non soltanto quelli di Valda Susa cioè ci sono però c'è comunque una partecipazione dei giovani nel Movimento 5 Stelle alcuni di quelli che sono stati eletti sono laureati da poco hanno forse due laurei alcuni ma sono giovani hanno poca esperienza nel mondo del lavoro visto che tu dicevi prima sarebbe utile eventualmente dedicarci di più a che tutti abbiano la possibilità di lavorare e i giovani che le diciamo le diciamo ti diamo un posto di lavoro subito ti diamo la formazione per imparare a lavorare ti aiutiamo a progredire a studiare che cosa pensi che potresti fare dalla regione Lombardia per i giovani allora io da sola non potrò fare niente dalla regione Lombardia nel senso che comunque deve essere una cosa di logicamente di tutte le forze che sono che sono in regione sicuramente noi abbiamo delle proposte da fare ad esempio che le aziende lavorino a più stretto contatto con le scuole professionali in modo che chi esce dalle scuole abbia effettivamente una preparazione adeguata alle aziende questo ci sentiamo una doppia lamentela da parte degli imprenditori che non hanno ragazzi preparati e da parte dei ragazzi che si lamentano perché a scuola studiano delle cose sto parlando di scuole professionali che poi non trovano un riscontro nelle richieste di lavoro abbiamo questo problema degli stage che sono stage inutili dove le persone vengono messe a fare fotocopie ma sono costretti a fare stage perché altrimenti tutti cercano qualcuno già con esperienza la prima esperienza non te la fa fare nessuno quindi mi sembra un po' un cane che si morde la coda poi abbiamo l'altro problema cioè dei ragazzi invece che potrebbero essere delle ottime menti e che potrebbero fare ricerca in Italia che non la possono fare perché voi sapete tutti sono stati tagliati i finanziamenti per la ricerca e quindi questi poveri figlioli compresi ad esempio i miei due figli devono andarseli all'estero e a me si rivolta veramente si rivolta non sempre le budella perché dico ma caspita abbiamo delle menti straordinarie teniamoceli in Italia facciamone una nostra ricchezza ci tocca invece paghiamo noi per farli studiare e poi utilizzano tutto il loro sapere all'estero allora sì sicuramente vanno cambiate le cose appunto partendo dalle mirando bene e decidendo bene con dei gruppi tecnici fatti da insegnanti studenti e anche imprenditori come cambiare determinate cose nella scuola in modo che la scuola sia utile e a tutti gli effetti e che motivi anche di più i ragazzi se i ragazzi quando escono da scuola trovano subito un posto di lavoro gli altri che entrano hanno voglia di farlo io ho sentito ho parlato con tanti ragazzi adesso in periodo di campagna elettorale e sono veramente già demotivati ancora prima di finire la scuola ti dicono ma sì finisco la scuola tanto poi faccio il disoccupato non esiste i giovani devono avere entusiasmo speranza per il futuro quindi questo sicuramente sì e poi logicamente va risolto tutto un altro problema che è quello della prima occupazione e quello diventa un problema complesso perché lì tiriamo in ballo tutto il problema degli esodati finché non risolviamo tutto un problema di pensioni di età pensionabile e anche qui noi proponiamo di mettere un tetto alle maxi pensioni perché ci sembra giusto che comunque risolviamo veramente un problema potrebbe essere anche una cosa temporanea non dico definitiva però che risolviamo un problema di occupazione giovanile liberando posti di lavoro ma non mettendo alla fame chi ha lavorato una vita e ha dato un sacco di soldi e poi improvvisamente come gli esodati si trova a non sapere con cosa mangiare insomma allora da quello che abbiamo sentito c'è una idea della politica in qualche modo rivoluzionaria in quanto questa politica parte dai cittadini i cittadini che non seguono questi la tradizione di partiti che vogliono mettersi loro in proprio così per dirlo in buona a fare politica per quello c'è una novità qui comunque a Malnate per gli elettori di il Movimento 5 Stelle nel senso qual è la vera rivoluzione che Paola Macchi porterà qua sotto questi alveri allora io in questo caso passo il microfono a Giovanni Gulino perché lui è della zona e comunque sia porteremo molte cose che sono nei principi del movimento quindi per esempio l'azzeramento del consumo di suolo no alla cementificazione quindi tornare a quella che è una vita più naturale più vera quella che vorremmo tutti una buona aria una buona acqua comunque sia passo il microfono a Giovanni che vi illustrerà bene allora io metto in evidenza un aspetto importante che è quello che comunque noi non siamo un partito politico ma noi siamo un movimento il movimento dei cittadini che spero possa portare a conclusione questa rivoluzione civile per cambiare un sistema che comunque ci sta creando tantissimi problemi sta distruggendo la nostra vita sociale ci sta facendo vivere situazioni che comunque molto spesso portano qualche soggetto a darsi fuoco no perché non ha trova il lavoro perché non può pagare il mutuo perché non può crescere i propri figli perché non può costruire una vita dignitosa una vita serena e tranquilla io voglio mettere in evidenza che a Malnate siamo il secondo gruppo politico no che esiste e quindi chiedere al nostro sindaco di tenere in considerazione e quindi ogni tanto chiederci qualche consiglio rispetto a quelli che sono i problemi che coinvolgono i cittadini malnatesi uno degli aspetti a cui noi teniamo tanto e questo momento questa intervista lo mette in evidenza è il fatto che noi vogliamo costruire un rapporto nuovo diverso con i cittadini vogliamo fare in modo che i cittadini attraverso l'informazione partecipano di più alla vita amministrativa perché la vita amministrativa è la nostra vita perché se aumenta l'acqua dobbiamo uscire di più se aumenta la luce dobbiamo accacciare di più se le strade non vengono curate con attenzione visto che i soldi ne paghiamo tanto è chiaro che le conseguenze poi le subiamo uno degli aspetti che voglio proprio mettere in evidenza è il fatto che noi ultimamente in questa campagna elettorale dopo aver subito un'imposizione pesantissima perché ci dicevano che stavamo andando in disastro in fallimento ci hanno tassato di brutto poi abbiamo scoperto all'ultimo minuto che tutti addirittura vogliono ridurre le tasse abbiamo sentito il PDL nella persona del suo capo Massimo dire che comunque restituisce l'IMU agli italiani dopo che gliel'ha fatta pagare perché la legge l'aveva fatta lui solo che Monti l'ha anticipata di qualche anno perché eravamo messi male economicamente e restituisce l'IMU e in più toglie l'IMU sulla prima casa avrebbero potuto farlo prima poi ci sono stati gli altri partiti politici che hanno messo in evidenza che si può ridurre l'IMU quindi che le tasse si possono ridurre allora io al nostro sindaco malnattese chiedo di impegnarsi affinché spinga all'interno del suo partito per realizzare queste cose e io chiedo come Movimento 5 Stelle che il nostro sindaco presto quando dovrà decidere come applicare l'IMU sulla prima casa perché ancora non l'ha tolta nessuno e forse noi come Movimento non riusciremo a toglierla perché non abbiamo il governo di questo paese non malnate ma dell'Italia quindi noi chiediamo al sindaco di stare dietro quelli che sono le affermazioni fatte da chi comanda all'interno del loro partito di abbassare l'IMU sulla prima casa azzerandola non facendola pagare più ai cittadini addirittura noi proporremmo di eliminare l'IMU perché di tasse in questo paese ne paghiamo tantissimo poi c'è l'addizionale comunale LIBF chiediamo che il sindaco valuti con attenzione il sistema dell'addizionale comunale e che attivi un sistema progressivo che veramente tuteli quelli che a casa portano poco perché ci siamo accorti che tutelano tantissimo quelli che dicono di guadagnare poco e poi vanno in giro con le ricchezze che si vedono in tutti i modi quindi noi al sindaco chiediamo di fare in modo che tutte le cose che hanno detto loro in campagna elettorale li attivi e si rapporti meglio con i cittadini in modo più puntuale grazie un'ultima cosa volevo dire anche alla popolazione di Malnate faccio un appello alle donne che partecipino di più alla vita politica le invito veramente nel 5 stelle perché noi donne abbiamo una conoscenza di alcuni problemi e penso alla situazione disastrata che abbiamo degli asili nido e delle scuole materne che sono carissime e che mettono in difficoltà tante donne che poi non possono lavorare quindi questo incide o alla situazione degli anziani molte volte ricade sempre su noi donne e questo toglie veramente serenità a moltissime famiglie quindi appello alle donne malnatesi partecipate di più dite la vostra noi donne possiamo farlo dobbiamo farlo siamo il 51% dell'elettorato quindi mi raccomando facciamolo grazie allora Paola si potrebbe dire si potrebbe dire che dopo la città dei bambini verrà la città dei cittadini in qualche modo se potrebbe dire questo questa è l'idea va bene io da buono straniero ti faccio la domanda che non era prevista non era concordata il voto agli stranieri o la riconoscenza ai ragazzi che sono nati in Italia il movimento 5 stelle cosa ne pensa allora esatto io posso dirti che cosa ne pensa Paola Paola pensa che comunque sia se un cittadino in Italia lavora onestamente e partecipa in modo attivo a quella che è la vita della comunità è a tutti gli effetti un cittadino italiano quello non l'ha detto italiano sì e non cittadino è stato inteso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti